almeno sa che qualcuno in giro c'è è proprio da me volare attraverso il paese dietro a una diceria ma purtroppo è la pista migliore che ho anche la iel è qui mi devo sbrigare Finalmente qualcosa di diverso dalla roccia questo è un buon segno oppure no la resistenza ecco dove sono deve essere così oh no la iel è arrivata prima presa se devo continuare a cercare devo raggiungere un'altura per capire dove sono non arrabbiarti Abu mi sto solo sgraffiando le gambe incredibile ce l'ho fatta i miei genitori impazzirebbero se mi vedessero neanche io sono tanto tranquilla impossibile ma chimera l'ho trovati incredibile l'ho trovati e andiamo andiamo attenta e è vita Accidenti! Ah, cavolo! Oh, oh! Ce l'ho fatta! La resistenza deve essere qui. Pensavo ci sarebbe stato qualcuno di guardia. Luci! Allora c'è qualcuno! Ehm... Ops! Giù c'era la sala del reattore. Penso di dover salire. Accidenti! Devo essere vicina! Accidenti! Ehm... Porca vacca! Il ponte di comando! Dove sono tutti quanti? Ci siamo! Il quartier generale della resistenza! Abbiamo dormito qui... Ma quanto tempo fa? Quei droni dell'AIM hanno fatto scappare tutti! È un po'... Polveroso. No. Sono qui da qualche parte. Sì! Ah... E là? Forse si sono nascosti negli alloggi dell'equipaggio e sono rimasti chiusi fuori. Devo riattivare la corrente. Forse c'è un interruttore o qualcosa da accendere. Ecco, credo di poterci arrivare. Ok, concentrati. Centro! Sì! No, 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 no! Wow. Complimenti, Kamala. Ehi, la? Allora, immagino sia stato qualcos'altro a far scappare tutti. Sembra stia cadendo tutto a pezzi. Che cos'è? È quello che penso che sia. Wow. Come fa a essere ancora qui? È così leggero. Avevi ragione, Cap. Il Terrigen era potente. Chi è là? Oh, no. Ma che... Aspetta, non farmi male! Dottor Bonner, sovi, sei lì dentro. Ti prego, svegliati subito! Ascoltami! Un attimo! Dottor Bonner! No! Maia! Sceppa! Via 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 via! No! Dottor Banner, possiamo parlarne? Sentimi serve il tuo aiuto, ok? Che fai? Cosa fai? Ti prego, lasciami stare! Io non volevo, io non volevo, non volevo, Lottor! Ti prego, non uccidermi, non uccidermi, non uccidermi! Devo andarvene da qui. Non mi stupisce che la resistenza se ne sia andata. Un'altra cosa da rovere. Sono sicura che non se ne accorgerà nessuno. Deve esserci un modo per tornare al ponte. Ormai Ulca dovrebbe essersi ritrasformato nel Dottor Banner. Cosa potrebbe andare storto premendo un pulsante rosso? Se Ulca torna, sono fregata. Oh, questo doveva essere l'hangar. Ci sono quasi. Calma, Kamala. Devo solo arrivare al ponte superiore senza farmi staccare la testa. Bam! Potrei abituarmici. Potrei abituare al ponte superiore. Aprendiz Arequile, la ponte superiore oltima, Premi i pulsanti, sposta le piattaforme. Capito. Non ti fermare. Hmm, ne quello cos'è? No, è senza corrente. Serve energia. Non ti fermare. Non ti fermare. Ah, la leva per la centralina. Ok. E voilà! Ora quel pulsante arriva corrente e io posso andarmene. Ecco la mia via d'uscita. La resistenza è sparita. Hulk li avrà spaventati. Devo andarmene in qualche modo. Cosa dovrei farci con questo video? Mi avete seguito fin qui? Davvero inquietante. No! 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 Oh, grande! Mani appuntite! Non mi fate paura! Non mi porterete da nessuna parte! State indietro! Me ne vado da qui e questa chiavetta viene con me! Devo scendere da questa cosa! No! 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 Lasatemi andare! Questa è nuova! Sono gigante! No! 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 Mantieni la calma! Come on! Oh, merda! Non dovete ripensare io con la volta! Fork! Oh, no, no, no! Oh, no, no! 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 Non ce l'ha con me! Ok! Per me sta bene! No! 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 Non ce l'ha con il grande! No! Mettela con il grande! No! 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 Mi sento un po' stordita! Oh! Non vomitare! Ehi, che cosa stai facendo? Ehi, devi rilassarti, è tutto ok. Mi stavo solo assicurando che tu stessi bene. Non puoi prelevare il sangue della gente quando ti muore. Io lo so, non lo farei in circostanze normali, ma queste non sono circostanze normali. Porca vacca. Dottor Bonner. Oh, no. L'Interstatale 9 ha 20 miglia dall'Interstatale 90. Se prendi l'Interstatale 90 c'è una fermata dell'autobus e potrai... Scusa... Di che parli? Ho trascorso... Molto tempo... Come... Come bestione, quindi... Dottor Bonner, da quanto sei qui? Un paio d'anni, sì. È incredibile. Sì, così dicono. Allora... Per questo i bot I.M. ti hanno inseguita nel deserto? Non esattamente. Diciamo... Che... Ho rubato... Qualcosa del server I.M. Aspetta. Cosa? Perché? Lo so, lo so, lo so, ok? Credo che dovresti vedere tu stesso. È Tartan? Sì. Perché stai disattivando i protocolli di sicurezza? Appena... Vero. Vero. L'ho pensato anch'io. Ha chiuso Cap nella stanza del reattore e poi ha cercato di rubare la chimera. Mi sembra... Esagerato. Sappiamo che il reattore aveva un malfunzionamento. È possibile che Cap gli abbia chiesto di disattivare i protocolli di sicurezza e di chiudere le porte? No, abbiamo sentito mille volte le testimonianze. Tartan e Monica erano sul ponte di comando quando è avvenuta l'esplosione. Per questo sono sopravvissuti. Ma questo prova che Tartan non era sul ponte di comando al momento dell'esplosione. Ha sempre mentito. Il resto della registrazione? Mi hanno disconnessa. Il resto del video è danneggiato. Sì... Ascolta. E se vi avessero incastrati? Ok. Tartan, la I.M., questa cosiddetta cura. Le cose non tornano, c'è qualcosa di sbagliato, me lo sento. Tu no. E io che pensavo fossi una ladroncola venuta per rubare lo scudo di Cap. Quindi... Pensavo... Il signor Stark ci aiuterebbe. Tutto il server si basa sulla sua tecnologia. Lui può sicuramente accedervi, no? Sì. C'è una fermata... Dell'autobus. Sull'Interstatale 9. Viaggia verso Est. Ti porterà ad alcuni vecchi amici che potranno aiutarti. Maria, affidabile. Dille che ti mando io. E falle vedere tutte queste cose. Ma hai visto il video? Sai che qualcosa non va, no? Io... Mi dispiace, ma non posso aiutarti. Vorrei davvero scusami. Scusami. Ma tu sei il dottor Banner. Una delle menti più geniali dei nostri tempi. Più geniali? Ma guardati. Guarda cosa abbiamo fatto. Non sai quanto sia pericoloso. Tarleton chiama quelli come me inumani. Sostiene che siamo malati. Violenti. Dei pazzi. Dice che la nostra malattia finirà per ucciderci. Io non gli credo. Cercherò da sola il signor Stark. Aspetta. Ti serve un passaggio. Davvero? Non ci serve un passaggio. Si. C'è un passaggio. Colpo. Niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È lo spirito giusto. Hai l'auricolare che ti ho dato? Sì! È praticamente invisibile. Allora perché sei tornato alla Chimera? Non l'ho fatto. Era lui. Quindi... Ha fatto scappare la Resistenza? Onestamente, non ricordo nessuno nella nave, Kamala. Il Vestione si è scontrato con alcuni agenti SHIELD, ma poi... Nulla. Oh! Giusto. È parecchio stretto! Attenta alla testa! Aspetta! Ti aiuto. Grazie. No, ce la faccio. C'è un'ora dura più avanti. L'ingresso dovrebbe essere lì. Ok. Quindi, Jarvis, chi aspetto ha? Come un vecchio hard disk del 1998. Ok, altra domanda. Chi aspetto ha un hard disk del 1998? Oh, Dio. Wow. Finalmente. Vuol dire che siamo vicini. Cavolo. È sigillata. Andate in un'unità di contenimento. Il Dottor Banner, cosa faccio? Corri. Cosa? Corri! 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 Che significa insolitamente volare? Si mette male, molto male. Merda! Arrenditi subito! Sei stato avvertito! Ci sono agenti AIM dappertutto. Come hanno fatto ad arrivare così velocemente? Che diavolo sta succedendo là sotto? No, no, no! Proprio di sì. Spero che tu abbia portato dei vestiti di ricambio. Vedo dal tuo silenzio che non ti fa ridere. D'accordo, credo che neanche a Bruce piacciano le mie battute. Ok, ok. Non menzionerò il... Tizio con gli occhiali. Ok. Cosa? Oh, merda. Hai ragione. Non sembrano temporanei. Ehi. Tutto bene? Ok. Siamo a posto. Credo. Oh, cavolo. L'A.M. non era appena arrivato. Si sono stabiliti qui. Dobbiamo trovare Jarvis e andarcelo. Eh. Non era appena arrivato. Oh, acera. Non era appena. Non era appena Tripoli. Oh, penserai. Molte. quando avremo finito mi farò una bella doccia quello deve essere l'archivio là davanti questo posto è controllato dall'AIM il signor Stark è ancora qui potrei passare dai condotti e dare sì, o anche così AIM ovunque tu distrai io cerco un ingresso hanno guardia ovunque potrebbe essere una pessima idea merda stanno chiudendo tutto sono entrata questi condotti sono enormi sembra che l'AIM abbia costruito intorno all'archivio originale è tutto nuovo è tutto nuovo sono 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 è tutto è tutto è tutto è tutto Ah, c'è mancato poco. Mi hanno quasi visto. Ahia! Tagliategli la strada! Versaglio acquisito! Questo è... Attento! L'AIM ha una bella potenza di fuoco. Dovresti vedere quanti soldati ci sono dentro. Di certo hai attirato l'attenzione dell'AIM. Di certo, dov'è? Ioemi seguire. T'il non potenza. T'il non potenza di andare. T'il non potenza di stare. Grazie a tutti. 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 Non possiamo farlo. Mio Dio, guarda quante croccia. Cosa dice? Rinforzi in arrivo all'amministrazione. È al piano terra. Dubito sappiano che sono qui. Dottore, sono... Ti impiego. Non voglio far dire il male. Non c'è? Non c'è? Non c'è? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dovrai sfondare la sala server Non sei tu Tu non sei quel mostro, dottore Tu non vorresti vedere distrutta questa ricerca Grazie a tutti 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 Posso ancora aiutarti? Sì, come no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti